Nello sperimentare un percorso museale innovativo, basato su supporti informatici, in linea con lo sviluppo delle comunicazioni e capace di una implementazione continua, si è scelto di affrontare come tema la scrittura etrusca. L'introduzione della scrittura in Italia e prima di tutto presso gli etruschi è stata una rivoluzionaria innovazione mediata dai greci a partire dalla fine dell'VIII secolo a.C. Fissare la parola attraverso il testo scritto portò infatti importanti stimoli alle antiche civiltà italiche e contribuì alla formazione di quella società urbana di cui gli etruschi furono la massima espressione prima del dominio di Roma e che ancora oggi è parte del nostro patrimonio culturale e civile. L'associazione fra gli antichi testi e gli approfondimenti multimediali accessibili tramite il codice QR presente nei pannelli vuole stimolare la riflessione nel confronto tra l'apporto che l'antica forma di comunicazione ha dato alla civiltà etrusca nella sua storia e i mutamenti che le più innovative forme di comunicazione stanno maturando nella società moderna. Non a caso il titolo del percorso è Zich, la radice etrusca del verbo scrivere e delle parole derivate. Il percorso propone una sintesi sulla diffusione della pratica scrittoria nel territorio dell'Arezzo etrusca. Su un totale di circa 125 testi iscritti noti, molti ormai perduti e dispersi, databili tra VI secolo avanti Cristo e I secolo dopo Cristo, si sono selezionati 16 documenti che ci introducono ai diversi usi della scrittura e a tematiche più generali sulla civiltà etrusca. Come la maggior parte dei testi etruschi, 13.000 circa quelli noti, quelli di Arezzo sono piuttosto brevi. Infatti la conoscenza della lingua etrusca è dovuta soprattutto a testi di natura privata, per lo più nomi di persona. La ricerca archeologica e gli studi linguistici hanno tuttavia consentito notevoli progressi nella conoscenza di questa lingua.